Un intervento di riqualificazione complessiva del ponte Mimo, nella zona della Trave, dell'Arzilla, della pista polivalente Zengarini. Un intervento importante, pur se può essere considerato piccolo, ma di grande rilevanza per tutto questo comprensorio e soprattutto per la città di Fano. Una città che era stata dimenticata negli interventi regionali del passato, come questo ponte, che aveva bisogno di interventi urgenti. Tra l'altro un ponte di proprietà regionale intercluso da proprietà comunali. Il nostro obiettivo è quindi, dopo gli investimenti di circa 280 mila euro, restituire questo ponte al comune di Fano, in maniera tale che questa opera d'arte possa vivere i prossimi 40-50 anni senza alcun problema particolare. Quindi rifacimento di tutta la soletta, abbiamo irrobustito le travi che reggono il ponte, circa 35 metri di ponte con fibre di carbonio, ma rifaremo anche i guardrail e le balaustre per dare un decoro a questa che è una delle zone più belle della città di Fano. Insomma, l'amministrazione regionale c'è, c'è per la provincia di Peso Rubino, c'è per la terza città delle Marche, per fargli recuperare quel terreno che altri gli avevano fatto perdere in passato. Lavori molto importanti qui al ponte Mimmo, quali le caratteristiche? I lavori riguardano principalmente la parte strutturale, è un ponte che aveva 43 anni di vita, ma oltre alla parte strutturale anche la parte estetica, quindi siamo stati attenti anche alla qualità architettonica del progetto. Per la parte strutturale sono state rinforzate le travi con del carbonio, è stata rifatta la soletta completamente, rifatta ai fini di migliorare l'impermeabilizzazione, aveva dei problemi proprio di infiltrazione dell'acqua e oltre alla sicurezza quindi vengono rifatti sia i guardrail, sia le balaustre in legno e in corten. Quindi abbiamo prestato attenzione proprio al miglioramento della parte strutturale anche a livello sismico, dove sono stati introdotti degli elementi per migliorare in caso di sisma la resistenza del ponte. Quindi un ponte che è più robusto di quello del 1981 e anche più bello e più facilmente percorribile. Possiamo già dare una scadenza dei lavori? Ci aspettiamo di finire i lavori a metà maggio. Sì, effettivamente questo intervento, sono circa 10, anzi anche 15 anni che lo stiamo aspettando. È un intervento, era indispensabile perché ormai il ponte aveva bisogno di un restyling completo. Ringrazio da parte di tutti i residenti e di tutte le persone che passano qui lungo il torrente Arzilla per fare le camminate. E' un ringraziamento ovviamente alla regione Marche e un ringraziamento particolare all'assessore Francesco Baldelli.